Allora, eccoci qua. Ben ritrovati, amici, amiche, come state? Spero tutto bene. Sicuramente oggi il mood non è dei più frizzanti. Non c'è nemmeno da parte mia particolarmente voglia di parlare della partita di domani e sono anche abbastanza contento che per una volta davvero non si sia parlato minimamente o quasi minimamente della partita con l'Atalanta. Nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia. Si è parlato tanto invece di quello che è accaduto ieri e quindi voglio andare un po' più nel dettaglio, voglio leggere insieme a voi e commentare le parole di Massimiliano Allegri e di Massimiliano Allegri abbattuto, un po' come potete vedere il sottoscritto in questo momento. Lo comprendo, lo comprendo alla grande se non alla grandissima. Prima di tutto però volevo iniziare da una frase perché tante persone nei commenti nel video di ieri sera breve, corto, coinciso mi hanno scritto Ancora non capite che il problema non sono le plusvalenze quanto più il sistema che si è creato di plusvalenze intorno a Juventus dove tutte le squadre andavano a fare affari con la Juventus. Quindi non è un problema che le squadre facciano plusvalenze quanto più che la Juventus fosse organizzata per fare plusvalenze con più squadre creando una sorta di sistema E quindi? No davvero e quindi? Il problema è che la Juventus quindi faceva fare con più squadre che c'erano dei legami tra alcune squadre la Juventus per cercare di aggiustarsi i bilanci perché questo è successo a quante volte in passato abbiamo sentito Asse, Inter, Genua, Milan, Genua Napoli, Udinese Juventus, Sassuolo Quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? Quante volte ci sono state delle squadre che si facevano i favori tra di loro perché entrambe avevano necessità entro il 30 giugno dell'anno XYZ di aggiustare i bilanci di mettere a posto i bilanci che diversamente non potevano essere approvati quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte l'abbiamo letto? Quante volte l'abbiamo sentito? Allora se la Juventus è colpevole di aver insistito su questo procedimento di averlo fatto con più squadre rispetto agli altri io però voglio leggere all'interno di quello che sarà la sentenza il motivo, un regolamento che è stato violato dalla Juventus perché con una squadra magari va bene con due squadre magari va bene con cinque non va più bene il fatto di averne fatte più degli altri io non riesco a capire perché è sbagliato è come dire io posso uccidere una persona una persona va bene ma se inizia a ucciderne 5-6 se non serve il killer è peggio certo che è peggio certo però uccidere una persona hai per forza di cose una pena, una condanna invece no qua è stata condannata solo la Juventus c'è un regolamento che dice che fare affari con più squadre costituisce un problema invece farne solo con una cerchia ridotta no? è questo io che voglio capire perché come dicevo ieri sera e come ha detto secondo me giustamente Allegri va accettata questa sentenza ci sono degli organi che decidono io ho fiducia nella giustizia ho fiducia nella giustizia se hanno attribuito 15 punti alla Juventus è perché se le meritava perché sono state fatte cose che non ne avevano fatte ora ci sarà un ricorso vediamo se verrà accolto oppure no però io sono curiosissimo e da quanto ho capito ci vorrà un mese almeno per capire quelle che saranno appunto le decisioni perché si è deciso 15 punti quelli ce li hai già poi verrà un mese e ti diciamo perché le motivazioni ufficiali anche qua se ho capito male fatemelo sapere nei commenti però sono curiosissimo di leggere il perché perché io mi li porto a casa se ce li hanno dati è perché ce li meritavamo ce li meritavamo però a questo punto voglio capire perché e qual è la differenza rispetto a farlo con X squadre e farlo con Y squadre perché questo è questo la Juventus non andava bene che lo facesse con più squadre con tante squadre se era creato questa sorta di sistema perché non andava bene? punto di domanda perché se in cambio dei giocatori con queste squadre ti vedevi d'accordo per falsare il campionato tramite risultati sportivi nel senso io ti do questo giocatore sì però tu quando vieni a Torino non giochi la perdi apposta così allora ti dico 15 punti retrocedila mettili in carcere resti qua ma se è soltanto per il discorso dei bilanci perché queste squadre continuano ad aver bisogno e la Juve anche certo la Juve magari ha aggiustato più volte il bilancio con più scambi ma questo fa parte di un procedimento che non va che va contro le regole e ancora se va contro le regole per tot anni che è stata effettuata questa cosa sono soltanto 15 punti perché allora se questa è una cosa che non si deve fare 15 punti sono pochi sono pochissimi sono pochissimi se la Juventus per tot anni ha infranto questa legge sono pochissimi se c'è questa legge se invece sono stati attribuiti così perché sì perché l'importante adesso è non fare arrivare la Juventus in Europa addirittura ieri chi ne diceva la Juve deve arrivare dietro la Roma allora non ci sto allora non ci sto siamo alla follia siamo alla follia andiamo avanti anzi andiamo avanti iniziamo questo era il cappello introduttivo che non potevo non fare Allegri dice partita importante bisogna chiudere l'andata nel migliore dei modi partita speciale dopo ieri bisogna compattarsi serve lavorare con basso profilo siamo qui per questo noi pensiamo solo al campo profilo basso sarà una keyword di Allegri in questa conferenza stampa anzi la keyword di Allegri in questa conferenza stampa lo ripeterà per ben tre volte in questo momento ha assolutamente ragione basso profilo anche perché che cosa vuoi fare hai 15 punti di penalizzazione sei per miracolo nella parte sinistra della classifica e attenzione che questo è soltanto relativo al caso Plus Valencia negli stipendi dove io temevo dei punti di penalizzazione non ci siamo ancora arrivati l'inchiesta Prisma la vedremo tra qualche mese quindi attenzione attenzione davvero perché ci sarà da ridere ci sarà veramente da ridere non cambia niente noi dobbiamo fare punti partita difficile Atalanta in forma noi siamo anche in casa domani da affrontare il migliore dei modi vincere ci permetterebbe momentaneamente di aggacciare il settimo posto in tutte queste situazioni bisogna continuare a lavorare con profilo basso e fare il meglio possibile con che mood ti ti metti ad affrontare ma anche solo io penso io a parlarvene in video pensate ai giocatori che devono allenarsi preparare la partita e giocare la partita con che mood lo fai vabbè non è che bisogna ripartire le vicende le vicende giudiziare riguarda la società ci sarà un ricorso come già annunciato abbiamo 22 punti bisogna cercare di arrivare a 25 per poi affrontare il girone di ritorno e ottenere il massimo e scalare posizioni alla Juventus non si gioca mai con leggerezza abbiamo la pressione di dover vincere noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro nei migliori dei modi recuperare calciatori come Pogba e Vlaovic che rientreranno contro il Monza e questa è una buona notizia domani avremo disposizione anche Quadrado prima della sentenza ieri la Juve aveva 37 punti a meno uno al secondo posto con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions e chissà magari anche il campionato la sentenza definitiva sarà tra due mesi e non dovremo avere dei rimpianti perché non abbiamo fatto quello che potevamo fare domani con i tifosi dovrà essere una serata bella e speciale ci siamo passati anche mesi fa con il ribaltone societario questo è un grosso imprevisto accadono nella vita singolarmente se ne esce rafforzati con tutta la serenità del caso servono voglia e determinazione di vincere le partite sul campo ora cerchiamo di arrivare al settimo posto poi vediamo parole lucide queste da parte di Allegri lucide sincere anche perché in questo momento non puoi fare altro che concentrarti sul primo dei gradini da scavalcare quel settimo posto da raggiungere quei 25 punti da guantare ma non saranno facili non saranno facili già a partire domani sarà con l'Atalanta perché se la Juve è davvero in questo momento il massimo che può raggiungere il quarto posto la quarta posizione che vorrebbe dire scudetto praticamente per la Juventus in questa situazione e ripeto poi vediamo cosa succede tra due mesi con il ricorso poi vediamo che cosa succede anche lato stipendi arrivare in Champions per la Juventus sarebbe come vincere lo scudetto in questo momento e domani c'è già uno scontro diretto con l'Atalanta e non vincere domani sera sarebbe già precludersi e di tanto la possibilità di fare il massimo a livello stagionale in Serie A quindi io capisco che siamo qua a non avere voglia di parlare dell'Atalanta ma capisco anche che devi farlo devi farlo devi vincerla e poi certo fra due mesi magari ti tolgono i punti perché da quanto ho capito nei commenti il ricorso può annullare o confermare il verdetto e quindi non decidere quanti punti saranno ma solo se saranno 15 o se saranno 0 ma nel frattempo la pacca psicologica emotiva ai giocatori è arrivata ed economicamente è arrivata anche l'associata Juventus quindi ha ragione allegre dire vediamo tra due mesi ma non dobbiamo avere rimpianti perché sicuramente questo ha un riscontro emotivo all'interno di ogni persona di ogni di ogni tesserato di ogni professionista rabbio ha fatto differenziato ma dovrebbe essere a posto ho parlato con Scanavino di ieri oggi alle 14.30 ci sarà il presidente Ferrero insieme a Scanavino che parleranno alla squadra poi noi faremo allenamento e preparazione della partita e giocheremo con l'Atalanta noi non possiamo fare altro tra l'altro circolava la voce mi pare Montblano Fonte Montblano che ieri sera Bonucci e Danilo abbiano richiesto con urgenza un appuntamento con la squadra con la dirigenza con la presidenza e questo viene confermato da Allegri quindi tra un paio d'ore ci sarà questo incontro è un dato di fatto momentaneo ma è un dato di fatto e tutte le situazioni che capitano vanno trasformate poi in opportunità mi piace che Allegri in questo momento stia cercando di prendere fuori il positivo anche se di positivo c'è poco o niente ma sta cercando di vedere la lucina da lontano c'è l'opportunità di fare una stagione straordinaria non possiamo dire dove saremo il 5 giugno l'Europa League ci permetterebbe di arrivare in Champions ma non è facile c'è la Coppa Italia ma non è facile ma abbiamo anche 60 punti a disposizione in campionato ipoteticamente ci sono ancora 19 partite per 3 fa 57 57 più i 22 attuali possiamo girare e chiudere il campionato a quota 79 vincendo tutte le partite da qui alla fine credo proprio che non accadrà però sicuramente avvicinarsi ai 65-70 è in questo momento un obiettivo ovviamente senza pensare a un eventuale ricorso o altri punti di penalizzazione per gli stipendi però in questo momento credo che sia l'obiettivo della Juventus i 60 erotti intorno ai 70 che sarebbero tantissimi perché significa vincere un sacco di partite e secondo me non sarà per niente facile non solo a livello sportivo per tutti i problemi che ci portiamo dietro a livello di campo che conosciamo e sappiamo citati ricitati ma anche proprio dal punto di vista della testa perché se sono abbattuto io che sono un tifoso siete abbattuti voi che siete tifosi e sto leggendo tantissime persone che in questo momento hanno avuto un'ammazzata allucinante io non oso immaginare dentro la Juventus io non oso immaginare dentro la Juventus che cosa stanno provando i protagonisti poi Allegri giustamente perdonatemi giustamente cerca di calmare le acque e dice una frase di circostanza perché in questo momento la deve dire l'ha sempre detta tutti prima eventualmente di fare altre scelte però è una frase che ha un impatto ha un peso perché Allegri dice io sono allenatore della Juventus e rimarrò allenatore della Juventus a meno che non mi mandino via questo è ovvio ma in alcuni momenti serve essere responsabili di dove siamo e di quello che facciamo nei momenti di difficoltà bisogna essere bravi bisogna essere uomini e assumersi la responsabilità di poter far bene quando le cose vanno bene siamo tutti bravi nelle difficoltà è più stimolante almeno per me la classifica recita meno 12 dal quarto posto domani abbiamo l'Atalanta che è scontro diretto è squadra che fa molto bene siamo in condizione abbiamo giocatori giovani con il Monza c'erano 5 ragazzi del settore giovanile significa che negli anni precedenti si è fatto un buon lavoro bisogna andare in quella direzione ce lo dice il campionato italiano basta dare un occhio ai fatturati delle 20 di Serie A e le 20 del campionato inglese c'è un rapporto di 1 a 4 io credo che questa frase sia perfetta perché è perfetta è veritiera rappresenta la realtà è anche carica di emozione perché Allegri dice io in questo momento sono allenatore della Juventus non abbandono la barca che affonda il capitano affonda con la barca eventualmente sulla carta è perfetta poi bisognerà vedere se questa cosa si confermerà se questa cosa sarà vera bisogna capire se effettivamente la Juventus andrà in quella direzione ma Juventus è da un po' che te lo dice che c'è difficoltà nel fare mercato come si faceva una volta che bisogna autofinanziarsi autosostenersi crearsi in casa il giocatore non più andare a cercarlo sul mercato e questo sta un po' accadendo perché la Juventus fa tanti acquisti ha tanto scout nel settore giovanile poco scout nella prima squadra io te li prendo te li fico in next gen e poi arrivano dalla next gen gli acquisti per quello che mi arrabbio tante volte quando leggo non c'è quadrado allora si pensa di andare sul mercato per Carsdorp o sul mercato per Mele no basta non si può più fare questa roba l'abbiamo fatta in passato si poteva fare c'erano altre prospettive potevi spendere soldi potevi andare a prendere giocatori pronti adesso non puoi più fare c'è Barbieri che arriva dalla next gen è quello più pronto il più anche se non è pronto bisogna che giochi anche se non è pronto per essere l'Istainer o Danielve se non lo sarà mai bisogna che giochi l'altro giorno uno mi ha detto non capisci la gravità della situazione della Juventus il momento della Juventus i giovani bisogna proteggerli no i giovani in questo momento proprio che c'è un momento di gravità c'è un momento difficile devono essere il nostro trampolino di lancio noi possiamo salvarci da questa situazione a livello sportivo soltanto tramite questi ragazzi che non hanno più il tempo di fare il processo il percorso la crescita la crescita la fai sul campo con la maglia della Juventus questo è a maggior ragione in un campionato come questo qui dove ti sei beccato tra capo e collo 15 punti di penalizzazione e non sai dove arriverai non sai cosa farai non sai se te li toglieranno se te ne daranno se te ne toglieranno altri non serve andare a spendere dei soldi per dei profili a caso scommetti su quello che hai Barbieri non è Danny Alves fa lo stesso può essere anche più simile a Desciglio ma Desciglio ce l'hai rosa l'hai rinnovato può essere peggio di Desciglio magari sì magari no chissà magari è comunque meglio di McKennie in quella posizione sono la nostra salvezza ma non è che sto dicendo se gioca Barbieri andiamo in Champions vinci allo Scudetto vinci allo Rappalino non vi sto dicendo questo è un discorso più ampio di concetto di momento ma te lo sta dicendo anche Allegri lo sta dicendo Massimiliano Allegri noi non possiamo più ragionare come abbiamo sempre ragionato te lo sta dicendo la Serie A e ieri sera vi dicevo che questa non è una sconfitta per la Juventus e i tifosi della Juventus badate bene ma ricordatevele queste parole del 21 di gennaio dell'ultimo stronzo possibile sulla terra perché io sono l'ultimo stronzo possibile sulla terra ma quella di ieri sera non è una sentenza che danneggia la Juventus ricordatevelo ricordatevelo perché questa è una sentenza che danneggia il calcio italiano a tutti i livelli ricordatevi che la sentenza di ieri sera avrà un impatto maggiore rispetto a quello di semplici 15 punti di penalizzazione ricordatevelo ricordatevelo davvero perché quella di ieri sera è una sentenza destinata a fare la storia di questo sport può essere tanto in positivo come può essere tanto in negativo vediamo come si evolve la situazione vediamo cosa accade Allegri dice una cosa ancora qua anche giusta perché dice io non sono in grado di parlare della gravità della situazione una cosa è certa è che possiamo accettare la sentenza in questo momento la società ha già fatto il comunicato farà ricorso poi vedremo a noi parte sportiva campo non deve riguardare questo dobbiamo fare il massimo a prescindere dalla sentenza l'avremo in silenzio ancora una volta profilo molto basso con i nostri 22 punti dobbiamo fare il possibile i ragazzi sono convinti anzi sono convinto che i ragazzi faranno di tutto per ottenere il massimo e magari fare qualcosa di straordinario nel calcio non si sa mai Allegri la sta buttando sotto questo punto di vista noi siamo qui siamo comunque la squadra che eravamo prima della sentenza chissà che non possa cadere qualcosa di fantastico poi io metto già le mani avanti perché so che se la Juventus dovesse non subirne dal punto di vista psicologico di questa cosa e continuare ad andare avanti a macinare punti e robe del genere dovessero poi togliere annullare questa sentenza regalando 15 punti alla Juventus io mi siedo sulla riva del fiume aspetto di leggere quello che accadrà perché che ce li tolgano che ce li lascino sarà un disastro è per quello che vi dico ricordatevi che non saranno solo 15 punti non è solo questa la storia poi dice sono molto dispiaciuto perché Rubini Agnelli Nedved arriva bene Galimberti dal punto di vista umano e non sono professionale per le squalifiche io qui faccio un po' fatica nel senso che ribadisco ribadisco se ce li hanno tolti è perché sicuramente qualcosa abbiamo fatto te li tolgono così a caso mi viene da dire se scelgo la strada del ho fiducia nella giustizia così come ho fiducia nella giustizia dal fatto che questo ricorso possa annullare la sentenza nel caso in cui l'avventus abbia sempre solo agito con delle scelte delle strade logiche lecite quello che vogliamo è ovvio è ovvio che la precedente dirigenza abbia abusato dello strumento plus valenze ma non lo dico io lo dicono loro le intercettazioni ma qui torniamo al cane che si morde la coda abusare delle plus valenze costituisce errore se sì perché se no perché sono stati attribuiti ma ribadisco se ce li è andati è perché probabilmente è stato abusato questo strumento e quindi questo è un altro errore e mi viene da dire macroscopico che si aggiunge alla presidenza Agnelli alla gestione Agnelli alla recente gestione Agnelli dal covid in poi è lo stesso Agnelli che dice non è solo il covid è tutto il resto che c'è dietro è tutta la merda che c'è sotto e per merda appunto si intende il fatto di dover rincorrere sempre plus valenze ma quant'è che l'Aventus ha smesso di farle queste plus valenze da un po' da due tre stagioni proprio perché stava cercando di uscire da questa merda merda non lo dico io lo dico a loro nelle intercettazioni ma merda non significa una roba illegale merda significa semplicemente che loro si sono complicati la vita con le loro mani si sono distrutti il giocattolino non solo a livello sportivo anche a livello finanziario arriva bene e dice che con quei 700 milioni di aumento di capitale non si può comunque fare il mercato perché è stato coperto la parte in cui la Juventus doveva fare il plus valenze ma ci rendiamo conto che questo è stato un danno per la Juventus ma non è stato un modo come un altro per la Juventus di alterare i campionati o facilitarsi gli acquisti la Juventus si è messa in merda da sola con le plus valenze si è affossata con le plus valenze ha dovuto mettere cash la famiglia Elkan 700 milioni di euro 700 milioni di euro in due stagioni cash così tirati fuori da Exor per mettere a posto quei disastri finanziari quindi la Juventus secondo voi ha subito davvero tramite queste cose ha tratto vantaggio a me sembra che la Juventus si autodistrutta autodistrutta con questa politica finanziaria ed economica e societaria poi vediamo magari una lettura mia sbagliata non sono qui a dire che ho la verità in tasca anzi magari ho capito meno dell'1% del discorso io però quello che penso lo voglio dire ho diritto a un'opinione lecita giusta sbagliata quello che volete ho diritto comunque a un'opinione quando ieri sera mi hanno detto che la richiesta era di 9 ho fatto subito il calcolo per il quarto posto quando è arrivata la sentenza dei 15 ho rifatto il calcolo per la media champions per arrivarsi bisogna fare qualcosa di straordinario ed effettivamente è così effettivamente è così se io qua ero carico questa giornata me la immaginavo bella nel senso dopo la sconfitta di Napoli c'è già un altro scontro diretto in serie A possiamo metterlo da parte possiamo fare un passo in avanti ora sono qui a dirvi che sono svuotato completamente svuotato e non possiamo fare altro che vedere come va a finire un abbraccio ragazzi